Vieni qua! Ha chiamato la gente qui per fare la colattatura e a noi ci ha messo una cosa. Codone, quello là, c'è là davanti, c'è là davanti! Sperno, questo è l'armi! C'è l'armi! Grazie a tutti. 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 1, 2, 3, via. Avanti, piano piano. Piano, eh? Piano, piano. Piano. Piano, piano piano. Piano, piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano piano. è un po' più l'anno